Gli agenti della sezione volanti hanno denunciato alla Procura della Repubblica una donna per furto aggravato ai danni di un supermercato dopo la segnalazione del responsabile dell'esercizio commerciale in una zona periferica del capoluogo Nisseno. La protagonista della vicenda si è recata alla cassa dove ha pagato pochi euro per una bottiglia di aranciata e delle patatine. Nella sua borsa successivamente il personale della sicurezza ha trovato sei bottiglie di whisky del valore complessivo di circa 150 euro. La merce è stata restituita a legittimo proprietario. Sulla donna gravavano già diversi precedenti per furto.